Siamo con Roxanne Feller, direttore affari economici del Food and Drink Europe. A lei chiediamo qual è il ruolo della sua organizzazione e come valuta l'iniziativa di oggi a Bologna, il convegno conclusivo del progetto Pacman. Food and Drink Europe è molto interessata in questo progetto e la nostra organizzazione rappresenta il settore più grande manufattura in Europa, in termos di turno e in termos di emploi. Siamo basati in Bruxelles e il nostro ruolo è di spiegare il nostro settore, di rappresentare e di influenzare e avere un'impacto positiva sulle legislazioni a un livello europeo. Questo progetto è di particolare importante per noi perché ha implicazioni in termos di innovazione, in termos di competitività e in termos di disseminare i messaggi europei all'Europa.